Pronto, parla Vincenzo Kormeier. Ti scusi? Non ci si capisce bene, chi prego? Fardinando, cuccia! Caro professore, sono veramente lieto di dirle che pubblicheremo in volume la sua conferenza sulla storia dell'arte. Guardi però che la deliberazione spetta la nostra assemblea che si riunirà oggi nel poveriggio. Grazie carissimo direttore, lei non può credere quale gioia mi dà e quale orgoglio sia per me, cuccia! Perdoni se l'avevo col cane, Maria, Maria! Che vuole professore? Voglio la quiete, porta via Fardinando e chiudi quella finestra. Non avrei dovuto dirglielo prima dell'assemblea professore e quindi per ora bisogna che lei si finga all'oscuro. Le do la parola d'onore che non chiederò con nessuno e nemmeno naturalmente con mia moglie. Ho garantito, adesso non si impressioni di qual cane. Cuccia! Oi! Siete pronto? Dunque vorrei sapere al più presto cosa deciderà la loro assemblea. La raggiungo magari dove lei vuole. Già, ma io stasera ho un altro impegno. Vado al veglione di Marte di Grasso alla sala Sofia. Senta, le propongo una cosa caro professore. Venga anche lei lì. Oh, 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 per me ci sto senz'altro. Oh, volentieri. Dove l'aspetto? L'aspetto in un palco? Ma il palco è una bella spesa. Ecco, è su il palco. Allora siamo d'accordo, a rivederla. Devono amare le bestie, ma io di quel cane ne ho abbastanza. Ma come il professore va a ballare, eh? Eh, che ci mischi tu. Senza la sua dolce metà. Ora uvidisci e non seccate. Scusi, si fanno qui i biglietti per la sala Sofia. I biglietti alla casa, signora. Lo sportello è là a destra. Grazie mille, grazie. Ehi, biglietti, signora, dove va lì? Ma io voglio i biglietti. Porta su, scendi giù. Mai un attimo di respiro. Vi prego, signori belli, che cos'è questo chiasso, eh? Noi siamo abituati all'ordine e alla disciplina. Tutto va a rotto lì senza la disciplina. Non lo sapete che tutto va a rotto lì? Eh, che cos'ha lei? Ho detto disciplina, sicuro, e lo ripeto. Disciplina ci vuole, ordine e disciplina. Lo insisto. Signore Rito, si deve imparare a questo. Eh, beh, 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 lo impalli pure, c'è bisogno di chiedere tutto a me. Eh, ogni tanto sparisce. Ha preso poi quella...